Chi è capogruppo? Io. Ma chi è che è che è che c'è veramente? Perché? Non la fa la gara 2. Perché non la fa? Non lo so, anche le altre due volte non la fa. Per me queste cose quando me le dite. Quindi lui è gara 2 e non la fa. Scusatemi, scusatemi, mi vuole aggiornare? Pronto? Sì. Quindi sono più volte che lui fa così? Ma la tua volta scorsa è stata... Settimona scorso la prima settimana... Non, no, no, no. No, 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 il giovedì scorso l'ho fatto tutte e due gare. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dicce che andiamo a telefoni devo chiamare e poi torna dopo tipo un quarto d'ho inizio nella casa. No, 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 no. E' vero, no. Doveva andare, sì, a trombare per telefono. È vero. se rientra per le qualifiche gira sennò gli si invalida la gara 1 questa cosa è un secondo perfetto questa cosa pure mi sentito e non ci mangiare ci mangiare per le sostanziali come sostanziali no raffa raffa no ma è proprio strabuggato poi ti faccio vedere se fa due play hai cambiato le qualifiche mamma mia io ero davanti a te ma hai colpito è come se la ruota tua è entrata nella ruota mia non lo so che stavamo dentro quindici minuti veri di qualifica fare l'immagine faccio prendiamo voi di noi possiamo uscire per uno alla volta stanno i box e potete passare 5 minuti dicendo che ha visto la giornata nome cazzo corre una potenza ma dove l'ha vista cosa a giorda in chiave quando ero piccolino formula 1 2003 ero innamorato di quella no non sapevo l'avevi vista correremo no no questo stavo chiedendo vilnev pizzonia ci manca più rubens barichello cos'è l'immagine che manda come si chiamava chi lo face cane pizza no come si chiamava chi lo come si chiamava chi lo pino mazza cane mazza cane nella toyota chi correva trulli sutil mi chiasi utile oddio l'hanno restato un po' le volte per appiccicare aspetta raga qual'era quella macchina bianca e rossa la toyota la toyota la toyota la toyota io mi ricordo quando sono andato in francia c'era la macchina questa era la formula 1 dove tipo ha fatto avvolto aspetta aspetta un attimo fatta simulatura facciamo un attimo per la griglia inversa e potete passare se è stato l'ultimo in modo che non vediamo no io ci sono sempre giusto i tuoi diratti si quindi parto prima e io faccio un attimo il giro poi dopo dove parte cosa andrea si poi parte wait no no scusate facciamo chiama prestato siamo 4 e noi lo facciamo prima eh e io quando devo porti eh tu non dovresti porti insieme per gli ultimi senza tempo te li dirò ok aspettate che mi passa il setup mi passate pure il setup a me che ho il cambio sminchiato a me eh però passi ma noi lavoriamo tutti lo stesso setup è che adesso che esco la seconda volta mi conta il giro eh mo ho passato il setup a tutti grazie raffa fane cose entra in box sei l'ultimo di uscire che dobbiamo fare eh però poi mi conta il ma niente è importante che poi devo fare il tempo a più alta degli altri i tuoi facciamo no eh come si fa a prendere come faccio un po' ma io vabbè ragazzi io parto ultimo cioè è meglio si ah ditemi quando partire ragazzi parto proprio si non partite proprio facciatemi sul giro e vi regolate quello dopo di me se volete metto il limitatore basta no no bastate molti regoli che il tempo che faccio ah vabbè certo basta che vedo il tempo perciò capito che siamo pochi possiamo farlo uno alla volta con calma tanto io devo partire al penultimo ultimo non mi capisco tu o andrea parte ma lo potete venire no è per per ultimo parte schierla eh tu si rai tu sei penultimo schierla parto io ditemi quando posso uscire che io adesso vengo domani mattina anche non devo alzare alle sei e mezza ora domani mattina si finiscono puoi uscire io sono già in pista come sei già in pista andrea l'ordine inverso vabbè vabbè devi metterci più tempo devi mettere più tempo di amici eh vado piano piano adesso passo il traguardo vedi il tempo che faccio eh mettici più tempo di amici qual'è il problema basta che ti fermi in pista e fare più di lui no meno di lui schierlo pressa lo pressa attenzione mo che ma io posso uscire raga da ai box che ancora non mi piace se hai iniziato il tempo fai uscire away ok quando passi il traguardo che inizi il tempo uscire away ma allora si puoi danniamo tutti un giro vai Ettore vado vado Ettore tu no vabbè ma sta girando piano piano in pista ma che cazzo ti hai fatto sta macchina minchia c'era porte che vanno che sono una meraviglia ok minchia se correvo con sta macchina pur mi arriva prima la giordano trasmette emozioni che tipo domani c'è annullate se volete potete annullare vabbè vabbè quando fa così ora ci vanno tutto tutto ma vanno più veloci i cambi come mai quando cambiavo io mi piace mettere un fruttio cambia di che cosa è hai cambiato i rapporti mica bellissimo a sopra è iniziare il giro 1 e 23 ok a posto ci deve mettere più di 1 e 26 ma più di 1 e 26 qui di andrea deve mettere badom mi ha preso badom mi raccomando non farti un'ora del tempo vai nei gian dopo vedete che c'è tu io e poi ritirato nella gara scusate se interrompo nella gara 1 di questa f5 di questa categoria vi ricordate se lui ha finito vabbè ci sono i risultati esposti perfetto ci sono i risultati esposti online come come vi facevo fare io no? ehm si si però come vi dicevo io evento gara risultati evento gara risultati evento gara risultati che così è impostato facebook si però sto weekend la città chi trova un cazzo e un altro ci ha facciuto di fare l'ordine del regolo classifica fatto sto qui però è importante che se io clicco la pista mi esce cioè mi da tutti i risultati come come di giusto no? si però ci mancano dicono di gara 2 la famiglia 5 di radiatore non 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 perché c'è 5 di danno a motore perché stai con il radiatore 0 eh quanto conviene a metterlo poi per lui io quando corro a 100 l'ho messo qui io prima 80 sono arrivato a 5% di sto facendo 1 e 32 posso passare come sei arrivato secondo prima? vai 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 domenica secondo? 1 e 40 no no domenica vinto scusa domenica vinto? no non l'ho vinto più sbam quindi siamo automatico posso fare il giro posso fare il giro posso fare il giro più 6 ore ok vorrei ritirarti se vogliono fare un giro lo possono fare grazie facciamo carriarci ragazzi non è scritto cosa? mi raccomando però i tempi non faccio più di 1 e 4 ho più del tempo di cirrl davidu1 vai ci fermiamo se trattino e poi partiamo eh vabbè ci fermiamo qua ora aspetta si si ditemi voi quando posso concludere il giro eh vedete il tempo del vuoi partire qua? del quinto ma si si del quarto scusami 3 2 1 vai vai ma perché non ho più l'uno ah ecco ragazzi sei dove sta andando? figliati fai il tempo fai il tempo se no che si dovete fare il tempo dobbiamo fare l'accelerazione eh lo so però che ti viene da un modo ma se vuoi fare il tempo questa mezz'ora è ferita per i cinque minuti imbio convene beh vabbè 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 ma anche ancora venti tre curve io mai tengo uno secondo me pro cos'hai cambiato Raffaea sta cazzo di amante? un'altra stati ritrovare i tambi a costi a costi potente libretto da patente perizoma no vai vai dai del sto facendo di da un numero buon tempo tu che devi fare il tempo davide che ci dovresti mettere più di 5 6 minuti quindi lei va ma no 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 che mi toglie il muro bello migliorato ho fatto 2.17 dove è 11 a costi perché mi stretto non fate caso al nome del setup al nome del setup che vi ho dato si chiama Long Beach Test quando? ma gli ho lasciato sapere una niente oh ma io sto ancora registrando 6gb, più di 6gb ti vengono se no? eh appunto 6gb, si un'ora di registrazione e io ne faccio quasi 30 di giga tu ce l'hai grosso eh certo è buono che io ho 20 giga di giga ti metti a far facciare la ca perché cambia sul guard rail Davide? perché cambio? calmina è calcolati giù sta la benzina sta volta perché cambia sul guard rail? stai laggando di brutto stai laggando di brutto la gara dell'altra volta era l'abbiamo fatta 31 05 che vuoi cortana? no 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 raffae ma tu dove sei? sto qua si vittio no faccio il giro arrivo in prossimità del traguardo e poi spengo poi faccio il ritorno ai box spengo no parto ultimo eh no parto allora scusa mi ritorno ai box io come a me mi capita di disemmurlo tu cosa? mica ma io cerco il cuore che eh quale curva? no tutti curva cioè se proprio no io alla penultima curva al bicicletta l'ho vietato il setup eh il cavolo tu sto volando all'improvvis hai mandato il setup tutti si 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 un attimo una causa comandi vediamo vediamo messa appunto vedete tutti tracciati come perchè stanno lo trovo ma si riesca non riesce ad avviare io come no già no 3 minuti e 27 già fa eh perchè stavolando un focus eh po cos'è che fa? eh niente non c'ho più il feed force feedback eh l'alimentazione secondo me hai staccato l'alimentazione ma davide ti vedo vuol a go si pure io l'ho visto la gara di brutto snake oh hai attaccato l'alimentazione guarda davide come l'ho attaccato l'alimentazione non è che stai non è che stai scaricando rainbow vedete ho controllato no guarda c'è ci stanno fai le due di te e lui è è lineare se stacco l'usb l'are attacco che fa eh no mi vedi raffan quando rileva il gioco eh adesso non sta laggando più adesso no 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 funziona bo bo ci pariamo un attimo ma rettilineo quanto fai scherella? io sto facendo 178 eh sono un po' ziugo come facci io faccio 186 188 ma devi fare più dolce le curve io? sì con il mio set up con il mio set up ma chissà con che sei la donna no ah 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 genna ma è brutto ciò qui sei ahahah interrapate visto david hai visto? chi è che sta usando il mio set up? io 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 ora no io no io no no voglio assoluto non torno a mancare il tuo lott uo 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 no so carmine sul cordolo attenzione ho che non insegnare tempi eh eh io lo posso segnirte si vabbè tu puoi ma grazie si vabbè non è sottosterzo sottosterzo rispetto al tuo si poi questo lo chiesero dove ho frenato un po' troppo tardi è più preciso ma chi è affinato a me? oh ah raffreddo si erro ah si ahia ahia ora è ficeva no è perchè c'era Wade vicino no no come ti permette? oh no come ti permette? come no non gira questo a me non gira questo non c'è come un lagga disgraziato beh vai a scatti a me non c'è a me non c'è a me non c'è a me non ti posso rispondere figa un scherzo dai dimmi mandato rapporto se stato no non credo io ti ricordo ma poi è il terzo ma che dici io ti vedo te la fai che combinata ma poi tutte cose suiste raffè rapporto se stato 12 ma poi inzio fai passato io capitolo ma io stavo per fare il giro io stavo per fare il giro ma come mai se non hai passato il traguardo ma che non sai ci cosa anzi ogni volta a me sembra russo cioè se credo di esserci gira volando con un lato non c'è se ti devo dritto e torenno quando scattai il semaforo ti metti una spina ma lei mi mette una spina e tu dici che se ti avevate in spina la corrente la corrente la corrente lo faccio la corrente si capirà la stessa cosa come se non c'è senza cosa dici un attimo se c'erano un po' che sei tedesco ammogupo e come succeggio ssd giustizio per tono come mi raccomandolo sull'erba posso far continuare se mai con i giorni ho capito la faremo giurale comunque fustos non è tutto il muro un amico e io mi metto la rata no aspetta 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 a me sinistra tornare da testo ma ma se non è un problema del gioco ma bui io li avevo mai taci pinici però ah e poi mi senti? si no si mi metto sulla sinistra così ti faccio passare ah uguale Raffaele non di coglioni hai capito? hai capito? c'era fatto manca la calibrazione no la corrente non fa so la corrente può dire l'USB chi sbagli so gran figlia nignotta abbiamo messo la sniper box e quindi andiamo forza con c'è ma che sbagli 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 quindi domenico vai abbiamo domenico scorsa annullata questo annullato bello sono arrivato secondo minchia è punti zero come è? eh non so ci oddio sono sulla sinistra è come un'altra per la gamma c'è un'altra ma non 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 c'è un'altra mamma mia un attacchiappo ti prendo ch guilty ma poi c'è un'altra quale si io sto viaggiando io sono su un aereo super sonico oh né appena avviato project car ma non c'è un'altra mi devi spiegare tu mi sono messo off line come fa 146, una bella Oh, 195 Sono quasi a 300, ragazzi Eh, Nilo sta cittando, eh Sì, sì, sto viaggiando malamente Oh, no, no Guarda come ho il culato Eh, io, ma, devi stare a te Comunque, sì, ma Sì, da pochino Perché ogni tanto funziona, cioè Boh, è come se la Settra la madre, ma, questa nuova, adesso Allora, raga, ieri un mio amico Mi ha invitato sul suo server Che è aperto adesso, eh Quello lì della rollovers Mi ha invitato, ah, viene da fare Un giro il TCR Qua, se ti importa, mi sono divertito troppo È stata bellissima Davide, bellissima Buono Se può fare, se può fare Eravamo tre di noi, eh Andrea, questo mio amico, Mari, un altro amico E io Però, bellissima Ho provato le macchine, è bellissima No, mi sa che noi ce l'abbiamo No, è Trim e TCR, sì In viaggio che c'è, udica Allora, ho provato la Giulietta Ma ho provato anche la Focus E la Focus, è la Focus, raga, viaggio Sì Ah, ma su assetto corsa A Leon invece mi dava un errore L'Audi L'Audi non l'ho provata Che sai Mi ha fuori il ritmo di cuo Sono contro all'Auli Ci sono pezzi di una macchina qua Andrea, Andrea era accorto, si porta in officina Prima a sto gioco non funziona però il cazzo Non funziona Fai schifo, fai giù O tu cazzo Prima non facevo più di 186, ora faccio 196 Ma dai Come 196? A me è 170 la macchina Io ho toccato i 196 km orari Madonna, Andrea, attento, Andrea No, Andrea Andrea, madonna santissima Non ti ho chiuso Io non ho fitto, ragazzi Non l'ho chiuso Non ho fitto Ci sto correndo così E' finita Ma non è che hai tu il conto ai chilometri, quello in gallone, no? No, no Vai a giornata a passaggio, no Porca, devo allendare, ragazzi Andrei che è in blocca, ragazzi Mi ha fatto scompare Ce l'hai con me? No, io non ti continuo a stare così attaccato Che devo fare, devo rallentare No, no, passa Se sei più veloce No Non ti ho sentito niente, che ho detto? No Io provo a riappurre il gioco, la voglio deserborda Vagà, eh, Davide, guarda me Oh, su, sei borsa Non mi devi niente andare a questa mamma Eh, cosa hai visto che è successo? Su, prego, guardate come sono Devo riappurre un attimo, arrivi a via il gioco Davide, guarda me Sa un secondo Io sono senza le due gomme davanti Davide, ti prego, guarda come sono No, non mi vorrei dire che siamo... Ma come cazzo Ma come cazzo... Ma che cazzo... Ma che cazzo... Ma come cazzo... raga però siamo sottotanti e scelano e spiegate che mi rimette normale questo concetto volo non è un'altra parte di una cura commettere normale 25 giri sono tutte due se non arriva a dodici arriva a dodici arriva a dodici david è la biga vero accettiva da vede assolutamente ragazzo da forza e ci sono pure io di dietro viva 12 assegurduo vedo andrea parola in giri e siamo io tu andrea becati torce schiattata io ho perso io devo venire ma non mi ha fatto a pigiare comunque ho riavviato il gioco funziona oggi non lo fa ancora città credo miglior ho fatto il mio miglior giro mi si appizzate la mia gomma alla tua, proprio si sono attaccate e non si sono scollate proprio si sono incollate allora è meglio appaltare da tutto nemmeno frate ma proprio si sono incollate ho detto ma che cazzo è ho provato a spostarmi e minchia sono volato io ora voglio capire ah ok grazie perché mi ha salvato ah infatti davide io buonanotte oh non ho sbagliato rafferro e faccio il torneo box no? oh vi dà fastidio se non è rotta rotta facciamo comunque pit stop davide davide pit stop comunque entri di 12 giri vabbè siamo fastidio nuovo in teoria qua non vi dovrà dare fastidio perchè arrivate sulla sinistra scherrall e a sinistro sulle gomme sinistra ma vi dà ancora una macchina e mezzanasse al valido e io sono io ahahahah eh tanto quando ve lo fastidio che voi mettete sulla sinistra in caso vi allerto c'ho le 4 freccia raffaele come ho fatto? non puoi capire quanti pezzi ci sono sinistra andrei a sinistra la gamma la volete sapere cosa è divertente? io ho solo 8 di danno davanti senza la gomma però boh pensa anziché allet ripatente ca è fatente ritirare arrivano direttamente i carabinieri in casa ti levano il gioco ma raffaele è incazzato vieni i carabinieri installa il gioco installa il gioco ti mettono il ban sul gioco dai 2 secondi ma dai oh no ma dai 2 secondi per che cosa poi ma dai ma dai ma che c***o no ragazzi io l'ho digitato ma stai ancora girando tu? si io sto girando no this is a list che mi sanno perso mi sanno perso ma dai ma chi io wait non puoi capire il c***o incidente come era tu guarda dove sono io Carmine e capisci davanti cosa dove vai Raffaele? raffaele perchè vuoi disselo io sto facendo lucine sto facendo lucine carmine sono uscito un attimo con due roto fuori un cordolo si per allentare all'improviso due secondi penalità ma dai io ci ho sceppato il primo i cinque secondi pregatemi che fare mi ritiro nel box perchè eh si che devo fare? vabbè i ritiro nel boxe che di più faccio domingos il regolamento dice che se praticamente io ti prendo mentre sto girando non solo avevo punti a te per comportamento scorretto ma devo lavare pure punti i due compagni di squadra no ma infatti sto girando sono ritirato in boxe non ho mai quanto più un chiamato i miei compagni di squadra no voglio ritrovare non ecco dal gioco restano in boxe intanto voglio ritrovare il break questo qua mamma mia genna lo mando nel gruppo aspetta bravo stiamo con le serite che dovevo fa? aspetta fammi trovare capo indecisione bravo c'è cast 2 eccola qua 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 offre c'è la formula di qua ecc.. non c'è raro che c'è figlio qua 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 però per il mondo ... passato sulla destra e ti dico Gennaro ma se ti ho detto passo sulla destra terapri raffaele ricordati il pistò io ne ho fatti 4 ha 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 2 secondi 2 minuti e 52 secondi dal primo praticamente sono 10 giri indietro Davide Davide se disconnesse è caduto ah Raffaele è obbligatorio Raffaele è obbligatorio eh lo so che obbligatorio no che tu non ti fai ah ah scusa ci dobbiamo fermar qui giro al dodicesimo no si va bene al dodicesimo finisce la ok dodicesimo completato però eh non dovesse a 13 di fermo ok tenggi giro a genna roggio no no anche andrea il video lo metto nel gruppo carico lo metto nel gruppo eh e c'è l'audio che fa morire che io non cazzo eh oh raga ma che cazze Davide ahahah ahahah cazzate io faccio per cambiare marcia però adesso non c'è ma che sta categoria di merda si è concluso proprio ahahah 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 i danni ci vogliono però così stai più attento sei più cioè sai cosa è che a me mi fa pure piacere che c'è vado a finire il muro vabbè però devo avere la possibilità di aggiustare la macchina e continuare pure sei ultimo purtroppo questo questo è la ruota scoperta appena abita la rota si è fottuto eh purtroppo è la ruota scoperta così capo io ho tolto la rota da se con me lo stesso capo ma metti il gommochiodato aiuto no 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 ora ti prendo eh ora ti prendo eh che prendo mamma mia Raffaele ma quanto lungo sta e io per guardar dietro sto fiendo mamma mia ma io c'è si sente c'è praticamente adesso faccio 100 no no ragazzi dai davvero eh quanto manca di giri ma io ho mi ha buttato forum ti dispiace se esco voglio modificare il video per metterlo nel gruppo ti dispiace se esco oh aspetta che finiscono i 12 giri ma come si fa tanto i video come? mancano 3 giri dai aspetta te i video vecchi come si cancellano? i video vecchi in che senso i video vecchi? i video registrati i replay voglio dire mmm scusami non c'è nessuna voce a fianco ma se tu li premi intorno c'è vedi no esatto video cancelli ma perchè andrei così veloce? eh non lo so io non ho lo stesso aspetto di prima devo accelerare un po' allora allora questo pc data video video invidia video invidia video class 2 gennaro amo fare passare le persone eccolo qua ma fa un culo venga no grazie grazie gennaro te lo giuro fa morire da ridere uff ma chi è essa cosa? ok ma la boccia del stampo con le gambe ciò sto caricando il circuito non solo quindi può essere che va ora posso passando sul server anche i cambiamenti quanto ci sta però qua mi dice praticamente ci sono cfg, due file tu non li hai messi vero? io ho messo la cartella che tengo ho messo la cartella però se tu vai a prendere quello che tu mi hai dato all'interno ci sono due cartelle c'è una content e c'è la pista e poi c'è una system no ho messo solo solo nella cartella trap c'è il sistema ok solo quella è fatta ok va bene ma questo è un ultimo cfg è scritto? è benultimo ma voi non potete capire gli incidenti che ho scritto anche io anche io si io e Raffa eravamo lì stavamo proprio bello io ho detto ecco adesso li prendo adesso li prendo li prendo che cazzo io lascio scaricare sta pista anzi caricare sul server sta pista fermo il server Gennaro 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 comunque noi due ci ammazziamo sempre comunque vada sarà successo mannaggia mannaggia e gira passa a testa e giro a testa oh questo è lo più con giro si dovevi agire al contrario cosa c'è che devo fare? no ma fa morire il video te lo giuro no perchè si sente proprio Gennaro posto sulla destra Gennaro e tu inizia a spostarti sulla destra no voglio fare sì sì ora lo metto eh ma è beissima che ho fatto tu solo mi non mi sono andata no ma è beissima ma è beissima Faccio caricare aspetta allora avanti si chiara la macchina va e allora fai Gennaro ha voluto fare in beine che è bello cos'è che ho? non è una cosa si metto anche due secondi a farlo che è bello vero lo metto sia su youtube che su gruppo pure mi piace certo, rimane nella storia a sto video è così quando mi devo fare due risate che non mi guardo a sto video stir al vince posso uscire a regalata progetter? ah spero, a fine che non ti sarà per le play vabbè però ho 13 giri si lancia un po' la play ehi, come fa la foie? no no, ho fatto ArtF10 ah tu stai registrando? no no no, io ho fatto ArtF10 quando io faccio ArtF10 ho salvato gli ultimi 5 minuti e ci sta solo l'audio e il video si vede tutto distorto cosa a genna? eh lo sbappo può essere no eh la gara è finita la gara è finita quindi posso fare l'inietro ok 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 tanto io ho fatto ArtF10 ho fatto ArtF10 come finita la gara? è finita la gara? come finita? come finita? no no, non si rompe niente no, non si rompe niente è di pittà no, è inoce è inoce non ho capito questo la gara è finita l'è finita adesso d'accorciata che eravamo sordi di lui andate in pace andate in pace ma come fa massaccavo volando io aspetta no, ragazzi, devo fare vedere sto video allora se mi dà del tempo se mi dà del tempo allora fate una cosa una cosa simpatica esatto andate su mega e scaricate allora aspetta andrea andrea fai i ritiro si si ma mi ritiro qual'è il problema eh ti devi ritirare però tu sai che lui le cose le fa piano piano andate su mega andate su mega e c'è praticamente davide new driver team assetto corsa esce una sezione auto e una sezione track dalla sezione track dovete scaricare per il momento n per gusa no, veramente che doll io ci sono andate ecco e ora ci siamo eventualmente ok come lo qui la perusa faccio primo faccio vedute vado sai qualche cosa lì lingua direttamente il bravo chiamas per